Un cordiale saluto a tutti, a voi che ci seguite da casa in streaming, grazie per l'attenzione alle nostre iniziative culturali e un grazie ovviamente va al relatore di quest'oggi che è il professor Paolo Ruffilli, saggista e poeta di fama internazionale. La conferenza di questa sera è dedicata al sommo poeta, guarda caso, Dante Righieri, nell'anno 2021 che vede le celebrazioni per i 700 anni della morte del poeta fiorentino. Dante a Treviso, questo è il tema, il titolo della conferenza. Quali furono le ragioni che condussero Dante a Treviso? Dante che ricorderemo, giova proprio ricordarlo, nel nono canto del paradiso, assume toni piuttosto pesanti e polemici nei confronti dei centri di potere della marca trevigiana, Treviso complesa, per le lotte intestine e richiama Treviso anche in maniera indiretta, ricorrendo proprio alla figura retorica della metonimia topografica, con quel famoso verso che poi è stato anche inciso sulla lapide e sulla stele, propriamente posta su uno dei luoghi di incrocio tra il Cagnan e il Sile, il ponte Dante appunto, secondo la toponomastica locale. Quindi un tema che presenta diverse sfaccettature di interesse. Ascoltiamo allora con attenzione e con grande interesse davvero quanto ci dirà il professore. Prego professore. Grazie. Sì, per celebrare Dante a 700 anni dalla morte ho pensato che un modo diverso, particolare, fosse quello di legare la figura e l'esperienza di Dante a questi luoghi, a Treviso e alla marca trevigiana, terre che sono state particolarmente care a Dante per varie ragioni, non solo per ragioni pratiche di sopravvivenza, ma anche per la piacevolezza dei luoghi e soprattutto per quell'atmosfera particolare che si viveva a quel tempo sotto Gerardo nella città che era il centro praticamente degli studi relativi alla poesia dei trovatori. Argomento molto caro a Dante e che nella sua giovinezza fu fondamentale proprio per prendere le mosse nel suo discorso di poeta. Sono tre le ragioni di attrazione che Treviso esercita su Dante. Innanzitutto la signoria guelfa di Gerardo da Camino, ospitale al massimo grado e in particolare nei confronti dei fiorentini perché a Treviso c'era una delle più grandi comunità di esuli fiorentini che faceva capo agli eremiti agostiniani, cioè gli eremitani della chiesa e del convento di Santa Margherita. Quello era il loro riferimento che peraltro era il luogo in fondo più vicino anche a Gerardo, il cui palazzo era poco lontano di lì, in quella che poi è diventata la chiesa di Santa Caterina. Il secondo motivo, la seconda ragione di attrazione è l'elezione a Papa dopo la morte di Bonifacio VIII di un trevigiano, Nicolò Bocassino, con il nome di Benedetto XI, dal quale attraverso la città di Treviso e in particolare attraverso Gerardo e i rapporti che Gerardo aveva avuto con il Bocassino, c'è la speranza per Dante che il nuovo Papa intervenga a Firenze e faccia sospendere la condanna all'esilio. Terza ragione è la presenza a Treviso, sia nel passato recente che nel presente, di molti poeti della diaspora trobadorica che praticamente aveva avuto proprio nella marca il suo luogo di riferimento dopo la cacciata praticamente dei catari a cui in qualche modo i trovatori erano legati dalla Provenza, dalla lingua d'oca, erano affluiti nella marca, erano affluiti perché c'era l'ospitalità dei signori del luogo, sia dei da Romano che dei da Camino, e a Treviso era arrivato proprio presso i da Romano Huck de Saint-Circ, un importante poeta trovatore di cui poi parleremo in maniera più diffusa, e il biografo di Bernard de Ventadorne, che era in qualche maniera il capostipite e il principale esponente della poesia dei trovatori. E Treviso era diventata una città di cultura, un vero e proprio scriptorium in cui gli amanuenzi copiavano i testi dei poeti trovatori sia in lingua d'oc che in lingua del sì che in lingua d'oil, quindi un riferimento decisamente significativo dal punto di vista culturale, ragione per la quale per esempio il figlio di Dante, Pietro, poeta a sua volta e curatore dell'opera paterna, dopo aver seguito Dante a Treviso, a Treviso resterà a vivere e qui morirà ed è sepolto appunto in città, allora a suo tempo venne sepolto in quello che era il luogo deputato per gli esuli fiorentini, e cioè la chiesa di Santa Margherita nel Chiostro. Poi quando la chiesa venne sconsacrata il monumento funebre venne spostato a San Francesco, dove appunto tuttora riposa, e lì accanto c'è anche il monumento funebre di Gerardo da Camino, imponente, sormontato dallo scudo con i colori nero e d'argento che erano tipici appunto della casata, e lì guarda caso riposa anche Francesca, una figlia del Petrarca, una dei tanti figli del Petrarca, quello dei figli dei poeti, è un argomento anche della chiacchierata di questa sera, perché nel caso particolare si lega a quella caratteristica storica, sociale, che vede molti intellettuali e non intellettuali legati a un matrimonio che non corrisponde magari all'amore della loro vita, all'innamoramento della loro vita. Da questo punto di vista Francesco Petrarca è un segno evidente, macroscopico. Quanti figli hanno avuto i poeti? A quanto pare Dante quattro, si è fermato a quattro, una femmine tre maschi. Ma per Petrarca non meno di quattro, ma probabilmente addirittura nove. Nel caso di Petrarca è più difficile individuarli perché Petrarca da chierico e poi addirittura da canonico non solo non poteva sposarsi, ma non poteva neppure riconoscere i figli, e quindi non è stato semplice, non è stato facile. Quindi Petrarca ha innamorato di Laura, ha avuto in realtà altre donne e da queste donne diversi figli. Per Francesca, che a Treviso, con il suo monumento funebre, è stato più semplice perché appartiene a quella parte finale della vita di Petrarca, che è 15-20 anni in cui si è mosso in questa zona, vivendo prima a Venezia, poi a Padova, e tra Padova e Darqua la figlia Francesca si era sposata a Treviso con un personaggio significativo della città, ma era morta di parto e qui è sepolta. È un argomento di cui per forza bisogna parlare perché parlando della poesia troubatorica si parla appunto di questa situazione così di separazione un po' schizofrenica tra l'amore, tra l'ideale e la realtà. In fondo abbiamo a che fare anche per Dante con una situazione analoga a quella di Petrarca, di un Dante innamorato di Beatrice, che però nella realtà sposa Gemma di Manetto Donati, anche perché Gemma di Manetto Donati gli era stata promessa quando addirittura lui aveva 12 anni, cioè questo la dice lunga già sul fatto che la schizofrenia nasce da ragioni storiche, sociali, per cui i matrimoni soprattutto poi di censo elevato non corrispondono alle ragioni del sentimento, ma corrispondono alle ragioni pratiche dei patrimoni, di queste situazioni insomma di legge. È importante comunque ricordare queste cose perché ci dimentichiamo che i poeti sono uomini e anche i grandissimi poeti restano uomini, proprio perché sono uomini hanno qualcosa da dirci, non sono santi, sono appunto persone che vivono fino in fondo le loro contraddizioni e anche appunto nella situazione come quella di cui poi veniamo a parlare adesso a proposito di quel nucleo fondamentale che è l'esperienza della poesia trovadorica nell'esperienza di Dante Alighieri. Sono tutte ragioni che trovano quindi a Treviso come dire il clima ideale, oltre che il luogo ideale, per Dante. Ma cominciamo dall'inizio, cominciamo da Gerardo da Camino che è colui che ha reso possibile a Treviso questa realtà proprio per la sua abilità di politico e di uomo colto capacissimo insomma ai diversi livelli. Gerardo si impadronisce del potere in città grossomodo intorno al 1275 alla morte di suo padre cacciando i ghibellini in quella che poi lui farà esaltare come una grande battaglia, un'eroica battaglia che in realtà era stata poco più di un scontro limitato ma poi usato in maniera propagandistica proprio per sottolineare il valore, le qualità quindi anche guerriere del personaggio. Gerardo si fa nominare capitano generale di Treviso con i poteri assoluti, con poteri addirittura che possono andare a modificare gli ordinamenti del comune. Gerardo è molto abile, intanto questi poteri assoluti li esercita attraverso come dire una persona di comodo che è suo genero, Tolberto, abilissimo. Gerardo ha sempre usato i matrimoni dal punto di vista diplomatico e per esempio sua figlia Gaia che poi citeremo appunto a proposito di Dante venne data in moglie al cugino di Gerardo, Tolberto, e Tolberto venne nominato podestà della città, ma in realtà chi decideva tutto era Gerardo. E Gerardo esercitava il potere però in maniera molto intelligente, non per niente Dante lo apprezzerà a tal punto da citarlo non solo nella Divina Commedia ma anche nel Convivio, perché era un amministratore di grandi capacità. In città, appena preso il potere, fa una serie di ristrutturazioni fondamentali, risistema tanto le mura e le porte, costruisce altri ponti, Treviso è una città palafitticola dentro le mura, piena di canali oltre che di fiumi e c'è necessità quindi di interventi di questo genere. Non solo, non tanto, naturalmente, non si limita solo a distribuire onori e beni a chi vuole lui o a incarcerare, scarcerare chi desidera lui. Operativamente, per esempio, lavora per il benessere della cittadinanza, ogni anno fa prosciugare i fossati proprio per evitare le malattie, quindi si preoccupa del popolo, dei cittadini, addirittura da questo punto di vista è abilissimo nell'approvvigionamento dei generi alimentari, secondo un sistema di calmieramento dei prezzi, per cui è molto amato dai suoi cittadini e non risparmia comunque obblighe a nessuno, chi più ha più deve mettere, per esempio dai ricchi aristocratici o borghesi che abitano i palazzi del centro di Treviso fa lastricare le strade per risolvere il problema del fango con il cattivo tempo, non solo, fa tante altre cose, per esempio realizza quello che è un primo nucleo di nettezza urbana dentro la città di Treviso e crea un gruppo di quelli che oggi chiameremo vigili del fuoco per intervenire sugli incendi, poi mantiene molti conventi, in particolare dei francescani, perché i conventi svolgono un servizio fondamentale in città, sono gli ospedali del tempo, sono i luoghi in cui ci si va a curare, addirittura ne costruisce uno di sana pianta all'interno della città che è appunto il convento e la chiesa di San Francesco, si preoccupa anche di costruire altre chiese, tra l'altro parteciperà alla chiesa, alla costruzione della chiesa di San Nicolò, voluta appunto da quel bocassino che abbiamo già citato e che appunto Gerardo senz'altro come dire con il quale Gerardo stabilirà dei contatti, ma ne parliamo magari più tardi. Restiamo ancora a Gerardo e a Treviso, un'altra cosa fondamentale che fa è rendere sicure le strade fuori delle mura e quindi garantendo naturalmente i movimenti in particolare ai mercanti e non solo a loro. Stabilisce addirittura un servizio regolare quotidiano via fiume tra Treviso e Venezia. Tra l'altro nella sua azione diplomatica Gerardo mantiene ottimi rapporti con le città vicine non solo con Venezia ma anche con le città che sono come la sua di parte Guelfa che sono molte nei dintorni vicinissime come Padova per esempio poco più distanti come Brescia Cremona come Modena come Ferrara e questa unità in qualche maniera di alleanza tra le città Guelfe si muove anche ad arginare la potenza di un'altra città che invece è Ghibellina poco distante e cioè Verona Gerardo arriva addirittura a fondare in Treviso lo Studium cioè quella che era l'università nella sua prima forma pensate a Treviso e università che fondata da Gerardo durò fino a metà del quindicesimo secolo come dire fatta cessare da Venezia quando Venezia ormai spadroneggia a Treviso e pretende che non ci siano concorrenze su questo fronte neppure dico sul fronte della della cultura e dell'educazione insomma quindi questo è Gerardo Gerardo è sì un dittatore come molti dittatori nella storia penso per esempio ad Augusto indipendentamente da quello che fanno privatamente loro impongono delle regole severissime per i cittadini e così fece Gerardo a Treviso a Treviso il matrimonio era indissolubile nessuno si poteva sognare di lasciare la moglie non solo a Treviso era vietata la prostituzione a Treviso valevano tutta una serie di norme severissime nel controllo di ogni aspetto della vita non solo quotidiana in senso stretto anche in senso più ampio dal punto di vista per esempio economico commerciale abbiamo citato già alcune cose possiamo aggiungere un fatto fondamentale Gerardo riorganizza dal punto di vista legislativo tutto il discorso che è relativo ai vigneti e all'uva cioè già da allora questa è una zona in cui ci si occupa del vino in maniera direi molto razionale con interventi decisivi Gerardo stabilisce una serie di norme che accompagnano tutto il percorso dell'uva dalla piantagione del vigneto fino alla vendemmia fino alla trasformazione dell'uva in vino e poi al commercio del vino Gerardo ha una corte significativa nel suo palazzo perché è molto ospitale un mecenate ospita poeti ospita artisti ospita scienziati quelli che possiamo chiamare già per allora scienziati quei saggi capaci di intervenire su vari fronti in particolare sul fronte dei problemi riguardanti l'acqua perché questa è una città palafitticola che ha a che fare con l'acqua in maniera massiccia quindi bisogna risolvere problemi idrologici e Gerardo fa tutto questo cioè realizza una serie di cose che trasformano Treviso in una città splendida significativa oltretutto ho ricordato prima come stimolasse i ricchi che vivevano in città alla strigale le strade ma li stimolava anche ad abbellire i loro palazzi proprio per dare il segno anche tangibile materiale attraverso le costruzioni di quello spirito cortese che caratterizzava questa città sicuramente dietro all'influsso di quello che abbiamo citato già e di cui parliamo adesso la diaspora trovadorica che approda a Treviso e nella marca già più o meno circa quasi un secolo prima poco meno ci sono ragioni per le quali quindi concretamente Dante apprezza Gerardo lo apprezza come il segno di un passato che lui sente nostalgicamente dell'uomo certo che ha il potere politico ma che sa esercitarlo per rendere migliore la vita a tutti gli altri naturalmente entriamo nell'incertezza quando dobbiamo con esattezza precisare il momento in cui Dante mette piede a Treviso certo tutto si lega alla condanna che Dante subisce a Firenze nel 1302 nel gennaio mentre lui è uno dei priori della città perché Dante a un certo punto proprio credendo che la politica fosse fondamentale nella vita di una comunità altrettanto come la cultura aveva scelto di fare il politico e in quel periodo in quel momento lui in realtà non era in città si trovava a Roma come inviato della città presso Bonifacio VIII per tentare di risolvere questioni che stavano crescendo in città dove i guelfi già divisi tra bianchi e neri avevano visto aumentare una lotta interna fratricida tra di loro e i neri stavano come dire prendendo il sopravvento perché attraverso il loro capo e cioè Corso Donati che tra l'altro era un cugino di terzo grado della moglie di Dante Gemma così come i cugini erano Forese Piccarda in fondo tutti amici di Dante soprattutto nel periodo giovanile ma è un fatto che Corso stava attraverso Bonifacio VIII prendendo le redini in mano della città e Dante era ambasciatore in quel di Roma mentre a Firenze viene condannato per baratteria cioè per corruzione nei pubblici uffici una accusa e una condanna naturalmente di comodo che non corrispondeva a nessuna realtà fatto sta che comunque Dante non può rientrare a Firenze e prima si ferma a Forlì dagli Ordelaffi perché Forlì poi è al di là dell'Appennino molto vicino a Firenze perché spera naturalmente di rientrare non accetta la condanna la rifiuta in maniera totale tanto che qualche mese dopo a Firenze tornano sul discorso della condanna rendendola ancora più pesante perché impongono delle condizioni anche sul fronte economico requisendo i beni di Dante e addirittura lo condannano a rogo e è in quel momento che Dante capisce che rientrare a Firenze per il momento è impossibile e che quindi si sposta in genere si indica in Verona il primo riferimento lontano in Veneto dell'esilio di Dante con Bartolomeo della Scala ma in realtà non si sa bene quanto e come rimase a Verona che tra l'altro era città ghibellina non certo di parte guelfa il soggiorno a Verona sarà decisivo più tardi con can grande della Scala altra personalità altro uomo di levatura considerevole è molto probabile che proprio già nel 1303 Dante metta piede anche a Treviso dove dicevo ci sono ragioni di attrazione intanto l'ospitalità offerta dal da da Gerardo e dalla corte di Gerardo da quella particolare situazione che vede la cultura la poesia provenzale così fortemente massicciamente presente in città ma è certo che se da principio viene attreviso per tornare magari a Verona poi Dante ci fa sopra una pensata più decisiva quando in poche parole Bonifacio VIII muore e viene eletto dell'ottobre novembre del 1303 Papa il Bocassino in ogni caso c'è sicuramente un lungo soggiorno di Dante a Treviso oltre che una successiva presenza magari anche per tempi più ridotti tra andate e venute la corte di Gerardo è un'attrazione notevole non solo per le opportunità che offre a Dante il quale ne ha informato perché come abbiamo detto a Treviso c'è una grande comunità di esoli fiorentini quali naturalmente restano in contatto tra di loro anche con quelli più lontani proprio perché tutti gli esoli sperano prima o poi di ritornare in patria e quindi lo rendono ben consapevole della situazione favorevole che c'è a Treviso a corte Gerardo tra gli altri ospita un poeta trovatore tutt'altro che marginale Ferrarino il quale quindi continua in città la tradizione trovadorica che nella marca ormai si è imposta Ferrarino è un trovatore che oltretutto insegna a poetare in lingua d'oc e tra i suoi allievi c'è anche quella gaia da cammino che poi di cui poi torneremo a parlare che scrive poesie in lingua d'oc per virtù naturalmente dell'insegnamento di Ferrarino ma anche per talento personale perché furono molto apprezzate le poesie di gaia non solo da dante nell'ambito più in generale dei poeti del tempo quindi c'è una situazione che possiamo definire per dante ideale perché lo riporta in un momento difficile come è l'esilio a quella passione per la poesia dei trovatori che aveva caratterizzato la sua giovinezza nella marca di treviso sono arrivati come vi dicevo moltissimi trovatori dopo che sono cominciate le campagne contro i catari e i trovatori hanno trovato ospitalità vi dicevo in particolare dalle famiglie dei da romano e dei da cammino ma è una presenza di cui magari senza rifletterci uno non si rende conto di quanto sia importante perché quella dei trovatori è un'elite intellettuale di grandissimo livello di grandissima sensibilità di grande anche sofisticazione una un'elite intellettuale che viene in questi in queste terre a seminare qualcosa i cui effetti continuano nel tempo e secondo me realizzano nel tempo ciò che ancora noi siamo qui in questa terra la poesia dei trovatori è naturalmente il primo tentativo a livello europeo di usare una lingua per parlare di cose che hanno a che fare certo con l'amore ma non soltanto con l'amore con un uso del linguaggio che è un uso totalmente nuovo altro di cui subito tutte le menti attente sensibili si accorgono Dante compreso certo è interessante approfondire il discorso sulla poesia dei trovatori i quali trovatori naturalmente hanno contribuito a creare quella situazione quella fama che regge poi nel tempo ma che sicuramente è massima all'epoca di Dante e da questo punto di vista vi leggo subito tre brevi passaggi che sono relativi alla marca di Treviso il primo è nel sedicesimo canto del Purgatorio nel verso centosedici dove si dice in sul paese cadice porriga solea valore e cortesia trovarsi questo la dice lunga su che cosa Dante ritiene che sia la marca dove lui arriva in che cosa consiste e cosa significhi è naturalmente una breve citazione che poi riguarda naturalmente il peggioramento di questa città dopo la morte di Gerardo che viene ricordato con il suo nome in questo passaggio la morte di Gerardo segna purtroppo la fine di quella situazione favorevolissima che Dante apprezza e che ricorda in quel breve passaggio altro punto in cui la marca di Treviso compare è in paradiso nel nono canto ai versi 25 e 27 in quella parte della terra prava italica che siede tra Rialto e le fontane di Brenta e di Piava si leva un colle e non surge molt'alto la onda è scese già una facella che fece alla contrada un gran assalto e qui è Cunizza che parla e che ricorda in qualche maniera indirettamente un certo periodo una certa epoca di quella situazione trovadorica che già caratterizza la corte dei da romano ci capiterà di riparlarne brevissimamente perché quel poeta quel trovatore presente nella marca di Treviso che abbiamo citato Huck sarà in qualche maniera fatto parte di un'operazione che riguarda proprio Cunizza Zellino da romano lo manderà a riprendersi Cunizza che era andata altrove dietro all'amore ancora Paradiso nono sempre lo stesso canto però più avanti ai versi 49 e 51 si parla ancora della marca il famoso passaggio a tutti noto a Treviso sulla stelle del ponte Dante e dove Sile e Cagnan s'accompagna tal signoreggia va con la testa alta che già per lui Carpir si fa la ragna in realtà in un passaggio negativo che riguarda Rizzardo il figlio di Gerardo che prende il potere dopo la morte del padre ma che traligna subito tra l'altro rompendo la tradizionale natura guelfa della città cercando alleanze ghibelline ma sia lui che poi suo fratello vengono uccisi in due congiure diverse uno dopo l'altro proprio perché in realtà rappresentano coloro che tralignando rovinano la situazione di Treviso allora in questa marca come avete sentito all'insegna della cortesia è chiaro che l'importanza di questa situazione culturale che si era creata influenza Dante perché Dante ha la possibilità di misurarsi con la poesia dei trovatori con tutto ciò che questo significa non più soltanto come aveva fatto da giovane attraverso quello che aveva saputo e conosciuto attraverso gli intermediari ma in presa diretta in una realtà dove si vive sulla pelle appunto questo stato di fatto che continua nel tempo sotto Gerardo in particolare Treviso era diventata scriptorium con una serie di emmanuenzi che avevano copiato tutti i testi più significativi non solo dei trovatori ma anche che riguardavano i trovatori e la poesia trovatorica come abbiamo ricordato prima ospite dei da romano era stato Huck molto importante nella vicenda della poesia trovatorica come si è diffusa e come è stata in qualche maniera letta studiata successivamente perché Huck che era anche poeta per la verità è stato più importante come in qualche maniera tra virgolette saggista uno insomma che si è occupato dei poeti trovadorici prima di lui ne ha testimoniato i testi e ne ha scritto anche le vite famose sono infatti le vite che Huck aveva scritto di cui però non abbiamo conservato tutto ma certamente una vita importantissima quella di Bernardi Ventadorna in ampia quantità ma anche notizie intorno alla vita che aveva scritto per altri come per esempio il De Born importantissimo poeta trovadorico dicevo Huck era stato anche poeta e adesso vedremo il come il perché però la sua azione determinante è di uno che spiega le fasi e le situazioni dell'esperienza dei poeti dei trovatori intanto mette a parte in maniera ampia quasi ripeto da saggista gli elementi che caratterizzano la poesia d'amore cortese fissando addirittura una sorta di schema di massima perché prima dello schema però sottolinea quelli che sono gli elementi il primo elemento è indubbiamente il fatto che si tratta di un amore illecito nella poesia dei trovatori perché è l'amore nei confronti di una donna sposata quindi l'oggetto è un oggetto che va attraversato in maniera abbastanza cifrata nel segreto è quello che poi viene chiamato il trobar clus cioè il poetare cifrato il poetare allusivo una sorta di ermetismo antelitteram insomma il secondo elemento è quella immagine quella metafora feudale che indica il poeta come vassallo nei confronti della donna amata che è la signora terzo elemento in un rapporto quindi tra disuguali perché il poeta amante e la donna amata convivono con il cosiddetto terzo incomodo quello che viene chiamato l'usurpatore che in realtà è il marito che naturalmente ha i diritti legali ma non ha i diritti di sentimento si insiste molto sul fatto che i diritti del sentimento sono altri rispetto ai diritti del matrimonio della legge non è detto che i diritti del sentimento dovessero per forza essere separati dai diritti legali del matrimonio però come abbiamo già accennato normalmente era così perché i matrimoni di scienzo si facevano per ragioni che non avevano niente a che fare con il sentimento lo stesso Dante promesso a 12 anni così tante altre situazioni ma i trovatori insistono sul fatto che ciò che conta è il sentimento e che quindi la vera nobiltà è la nobiltà del sentimento e non la nobiltà della legge in senso stretto dentro questa situazione che vi ripeto è importante perché riguarda anche Dante e vedremo come perché ci sono nell'amore cortese appunto come dicevo fasi di uno schema perché il primo stadio è sempre il poeta che confessa quest'amore impossibile nei confronti di una donna che è di un altro legalmente è timoroso si contiene in un secondo stadio arriva a rivelarsi finalmente pregando in uno stato di inferiorità la donna di ascoltarlo nel terzo c'è la risposta della donna che è una risposta ambigua è una risposta di ritegno tra lusinga e ripulsa molto difficilmente si arriva al quarto stadio che è quello dell'adesione della donna per cui si trasforma in relazione ciò che ancora ha un valore puramente cerebrale intellettuale ideale sentimentale Huck vi diceva importante perché ci ha testimoniato quello che il primo importantissimo poeta trovatore ha fatto nell'ambito appunto della poesia cortese cioè Bernardo Vettadorna Bernardo Vettadorna è un poeta fondamentale nella tradizione trovadorica e Huck se ne occupa salvando insieme sia notizie della sua vita che testi di Bernardo vi dicevo che Huck ha fatto anche il poeta ma diciamo che come poeta è relativamente importante abbiamo conservato poche cose una caratteristica di Huck è che come dire aveva poca pazienza nel senso che rivolgendosi a una donna che non rispondeva faceva presto a stancarsi e a trasformare le lodi in accuse anche sprezzanti in ogni caso il nostro Huck lo sappiamo per certo ha smesso di scrivere poesie appena si è sposato non sappiamo esattamente perché se la moglie pretendesse che le sue attenzioni e le sue parole fossero rivolte solo a lei o magari per sua fortuna che avesse trovato finalmente la donna ideale che corrispondeva anche a quella su cui finalmente la legge gli concedeva i diritti ma al di là del poeta l'importanza di Huck è che ci racconta per file e per segno molte cose di Bernard de Ventadorn il quale ha fissato alcuni passaggi fondamentali è vero che c'è anche in parallelo l'esperienza di Bertrand de Born anche di lui Huck aveva scritto una biografia ma non abbiamo conservato praticamente nulla ma le poesie di Bertrand de Born erano molto ben note a Dante Dante cita de Born nel Purgatorio nel canto ventottesimo per vostra fortuna invece o tra l'altro Huck scrisse anche una biografia di Sordello da Goito un trovatore molto importante alla corte sempre dei da Romano Sordello era molto apprezzato da Dante e addirittura citato in diversi canti del Purgatorio il 6 il 7 l'8 e il 9 ma torniamo a Bertrand a Bernard de Ventadorn Bernard de Ventadorn è il primo che scopertamente dichiara che la donna non è soltanto una donna in carne e ossa ma è anche un messo divino è un angelo che Dio manda in terra per stimolare le qualità migliori degli uomini la parte spirituale beh questo naturalmente è un argomento è un tema che a Dante starà particolarmente a cuore nel processo della sua crescita personale oltre che poetica nel trasformare cioè quella Beatrice donna dell'amor cortese in Beatrice messo divino simbolo addirittura della teologia che lo porta in alto fino in paradiso Bernardo e Ventadorna è stato questo è stato questo ed è la cosa che Huck ci fa capire lo avvicinava ai catari i catari sono la ragione per cui i trovatori vengono cacciati dalla Provenza e dalla lingua d'oca perché la persecuzione viene scatenata nei confronti di una eresia dichiarata perché i catari ritengono che il corpo sia il fondamento di ogni male per l'uomo e che quindi il corpo debba essere sacrificato nella vita quotidiana il matrimonio addirittura viene osteggiato perché i catari ritengono che la scelta obbligata debba essere il celibato niente rapporti con la carne meno che mai della donna ma neanche della propria e in questo eccesso subiranno appunto la condanna per eresia e saranno appunto perseguitati e con loro anche i trovatori che peraltro aderivano marginalmente non necessariamente alle tesi dei catari in senso proprio assoluto però è vero un fatto che anche lo stesso Bernardo e Ventadorna che pure parla della donna messo divino angelo di Dio fa presto poi anche a farla scivolare la donna dico nei suoi panni terreni di Eva come causa del peccato originale quindi questo la dice lunga sulla contraddizione che anima peraltro non solo la poesia del Ventadorna in ogni caso Bernardo e Ventadorna è un poeta molto significativo ma sempre per virtù di Uc abbiamo conservato una quantità straordinaria non solo di testi ma con l'accompagnamento musicale perché era anche un musicista e i suoi canti avevano sempre una partitura musicale per lasciarvene un segno vi leggo un brevissimo passaggio che era particolarmente caro a Dante un passaggio di una poesia di Bernardo Ventadorna intitolato Il tempo va e viene e naturalmente ve la leggo in italiano il tempo viene e va per giorni mesi e anni e ahimè non so che dire che uno è il mio affanno immutato è il mio desio di lei che vogli e voglio che mai non mi dà gioia e lei non perde il riso e io ho sol dolore e danno che a tal gioco lei mi tiene sì che tra i due io perdo sempre perché l'amore è via perduto se da una parte è trattenuto e non vi è mai corrispondenza ecco questo per darvi l'idea di una qualità significativa della poesia di Bernardo e Ventador ecco perché era così interessante per Dante è chiaro che i poeti trovatori nella loro elaborazione di di testi significativi fanno riferimento anche a un passato a una diciamo anche a una contemporaneità significativa perché per tutti e Huck in qualche maniera lo cita e lo ricorda c'è anche la presenza di un libro molto importante che è il De Amore di Andrea Cappellano ben noto anche a Dante naturalmente in questa maniera ricordando attraverso Bernardo e Ventadorna la filosofia dualistica dei Catari sottolineo questo aspetto della contraddizione in essere della schizofrenia che riguarda la poesia dell'amor cortese e che ha interessato e riguardato in prima persona anche Dante in una lotta interna interiore tra ideale e realtà insomma che corrisponde alla vita poi di ognuno di noi volevo ricordare anche tra i tanti trovatori importanti per Dante o fondamentali per Dante anche ricordo che sono i trovatori che stimolano la nascita della poesia in volgare sia toscana che siciliana ecco decisamente molto importante era Giacomo o Jacopo Dalentini che Dante cita in Purgatorio nel canto 24 e tra l'altro proprio la canzone più nota e forse più cara a Dante di Jacopo Dalentini Madonna dirvi voglio oggi sappiamo che era stata scritta a imitazione o addirittura in parte a traduzione di una canzone di un trovatore Folchetto da Marsiglia Dante forse l'avete sentito dalle mie citazioni cita parecchi trovatori quasi esclusivamente nel Purgatorio mi chiedo se ci sia qualcuno che abbia pensato alle ragioni per le quali il Purgatorio fosse il luogo dove inserire i trovatori è una ragione forse c'è che riguarda poi visto che mai a caso Dante attribuisce pene nella sua commedia è una ragione che riguarda dall'interno dal vivo lo stesso Dante che attraversa un percorso che va appunto da una situazione dilacerata lacerante che è tipica della poesia dell'amor cortese di un amore di un amore impossibile per una donna in qualche maniera via via trasformata visibilmente nell'esperienza di Dante in una indicazione di percorso quella che abbiamo già dato per cui Beatrice diventerà da donna in carne e ossa simbolo di quel messo divino che fa crescere la personalità e quindi le qualità positive dell'uomo quindi c'è un riscontro positivo rispetto al lavoro dei trovatori che in qualche maniera però si debbono come dire purificare ulteriormente per fare quel salto di qualità che nella tradizione prima o poi dal purgatorio porta in paradiso e tutto questo Dante lo vive in prima persona sulla pelle in questa città della marca gioiosa e amorosa no? Proprio perché alla corte di Gerardo c'è Ferrarino alla corte di Gerardo c'è Gaia la figlia di Gerardo che ha le stesse qualità del padre e non a caso proprio per questo dopo la morte di Gerardo il fratello la manderà in esilio a Portobufolè impedendole di esercitare con le sue capacità un'azione politica che invece avrebbe dato un'altra piegatura a Treviso perché proprio l'esperienza dei due fratelli di Gaia porteranno Treviso alla conclusione dell'esperienza delle signorie e vedranno di lì a poco Venezia impadronirsene in quella operazione di politica nell'entroterra che Venezia già svolgeva da tempo e voglio leggervi quell'altro brevissimo passo fondamentale in cui Gaia viene citata viene citata dunque forse l'ho trascritto qui perché a un certo punto nel Purgatorio parlando di Gerardo il quale peraltro viene nominato come vi ho detto in altri luoghi lo si indica attraverso la figlia Gaia e la sua la sua importanza di poetessa perché tra l'altro lo si fa attraverso un gioco di parole tipico tra l'altro della poesia trovatorica relativa al nome Gaia che è anche uno degli aggettivi più usati dai trovatori perché perché Gaia significa l'aggettivo Gaio significa leggiadro in grado di ispirare amore ecco in quel passaggio del Purgatorio Dante cita attraverso non trovo adesso i versi ma che avevo annotato comunque cita Gerardo attraverso la grazia di di Gaia intendendo dire che cioè la caratteristica di questa persona Gaio Gerardo è proprio quella stessa di Gaia all'insegna quindi di quella dimensione amorosa e cortese di questa città di questa città in cui si trova a meraviglia in cui fa esperienza tra l'altro di quell'antico torneo che da tempo già si svolgeva ogni anno in città che era il castello d'amore cioè quel quel torneo che vedeva le donne chiuse dentro un recinto e l'assalto degli uomini appunto all'insegna dell'amore un torneo che è molto ben descritto da un sorprendente poemetto anonimo che si chiama la corte d'amore composto grossomodo a metà del 1200 e nel quale si parla di questa di questo torneo in termini piuttosto direi anche carnali secondo un costume un uso delle corti d'amore che era stato in qualche maniera diffuso e imposto da Eleonora d'Aquitania quindi vi dicevo questa è la natura di una città che coinvolge Dante e in cui Dante si trova a suo agio e ripeto come ho detto all'inizio non è un caso che il figlio Pietro che è poi il curatore dell'opera di suo padre decide di vivere a Treviso quindi all'insegna cioè di un'esperienza talmente positiva che lo riguarda che non riguarda Dante perché Dante naturalmente aveva anche altre prospettive e tra tutte quelle prima o poi di recuperare la sua città certo che lo aveva allontanato ed esiliato ma che continuava ad essere una città amata quella Firenze da cui invece resta più di vent'anni lontano come esule i suoi successivi spostamenti sono spostamenti legati spesso e volentieri anche a figure che lo attraggono non solo perché possono essere utili a risolvere questa sua situazione dell'esilio come per esempio Can Grande della Scala ma anche perché sono figure a cui lui si ispira perché continua a sognare che prima o poi l'Italia questo paese attraversato dalle lotte intestine riesca ad accettare e anzi in qualche maniera a generare un uomo di potere un imperatore capace di risolvere una situazione che secondo Dante si è via via sempre di più rovinata incarognita proprio per tutta una serie di lotte interne fra tricide non solo tra le varie città ma all'interno di ogni città e che nella sua prospettiva sogna potesse essere risolta da una figura che magari all'insegna di un Gerardo da Camino o di un Can Grande della Scala riuscissero ad essere quello che erano per le loro città addirittura per un'intera nazione per un un insieme di nazioni Treviso è stata sicuramente importante e vengo ormai verso la fine della mia conversazione a quella presenza che di certo lo ha coinvolto illudendolo per il suo esilio in qualche maniera da risolvere e cancellare cioè quel Niccolò Bocassino che ho prima citato in più di un'occasione che viene eletto Papa dopo la morte di Bonifacio VIII tra l'altro viene eletto Papa nel giro di due giorni un conclave così breve non c'era mai stato perché in qualche maniera il Bocassino era stata una pedina da Bonifacio VIII usato a livello diplomatico in Europa ciò nonostante Dante che naturalmente odiava a morte Bonifacio VIII credeva penso a ragione che Benedetto XI fosse di tutt'altra pasta alla fin infine in ogni caso il Papa di Trevigi come veniva allora chiamato e Trevigi allora era il nome di questa città ebbe aveva dei legami con questa città attraverso i quali forse sarebbe passata una parola decisiva visto che era stato Bonifacio VIII precedentemente a consolidare il potere di Corso e dei neri a Firenze e Benedetto XI avrebbe potuto modificare almeno in parte la situazione già prima di diventare Papa il Bocassino aveva stretti rapporti con la città e anzi aveva deciso la costruzione di una grande chiesa dentro le mura da intitolare al patronimico del suo al santo suo patronimico insomma Nicolò la chiesa di San Nicolò appunto per il quale tra l'altro spenderà una cifra colossale in almeno due due tranche circa 70.000 fiorini che è una cifra veramente colossale e la prima tranche di questa cifra l'aveva già data prima di essere eletto Papa era stato scelto il luogo ed era stato deciso anche il disegno architettonico si pensava come poi si è realizzato nel tempo a un gotico che è sicuramente il gotico più monumentale del del Veneto in questa operazione già da subito prima ancora che fosse Papa si era unito a lui lo stesso Gerardo da Camino il quale aveva deciso di mettere anche lui dei soldi in questa costruzione sia perché naturalmente gli interessava abbellire la sua città e pensava che una chiesa di quella portata avrebbe in qualche maniera segnato il sugello superiore di quella straordinaria città che già era treviso in quel momento ma treviso di straordinari palazzi in centro che tra l'altro Gerardo aveva in qualche maniera contribuito stimolando i proprietari ad abbellirli non solo all'interno nel loro privato ma anche all'esterno treviso risulta la terza città in Italia per affreschi in esterno dei palazzi se ne sono contati più di 250 anche se molti sono ridotti in condizioni precarie solo in parte conservati ma è un fatto è un segno del tempo che la dice lunga sull'idea che di treviso avevano un Gerardo da Camino capitano generale della città e un prelato ancora prima di diventare papa ma già importante come il Bocassino come Niccolò Bocassino una d'altra parte detto tra parentesi i cicli pittorici sono i mass media dell'epoca e quindi chi vuol dire qualcosa a qualcuno in quel momento a quel tempo lo fa con gli affreschi la chiesa lo fa al suo interno nelle chiese che appunto hanno presenza frequentazione pubblica naturalmente stimolando e promuovendo le virtù attraverso le vite dei santi o gli episodi del Vangelo o della Bibbia ma la ricca borghesia non lo fa solo all'interno delle proprie dimore per uso privato lo fa anche all'esterno e sicuramente stimolata da da Gerardo naturalmente sono altri temi che la borghesia la ricca borghesia produce nei palazzi all'esterno sono fanno riferimento al lavoro alla produzione ai cicli dell'anno alle feste anche naturalmente e anche all'amore diciamo che è la ricca borghesia che promuove i cicli che riguardano temi amorosi e che rientrano in quel discorso della treviso città amorosa che abbiamo fatto no Niccolò Bocassino quindi è una presenza che Dante avverte direttamente e anche attraverso naturalmente quello che sente alla corte di Gerardo come una possibilità per risolvere il suo esilio è vero che Gerardo in qualche maniera era entrata un po' in rotta di collisione con il Bocassino perché si diceva che avesse avuto parte nell'omicidio di un certo vescovo che invece stava a cuore del Bocassino o più sicuramente per il fatto che aveva tentato di imporre un suo figlio guecellone ancora minorenne come vescovo di Belluno e di Feltre però Gerardo poi si era fatto in qualche maniera parte del progetto di Bocassino aveva messo soldi nella costruzione di San Nicolò quindi aveva recuperato posizioni il problema vero è che probabilmente qualcosa Benedetto XI avrebbe fatto ma il suo pontificato è stato uno dei più brevi nella storia del papato e praticamente non è durato neanche un anno e forse proprio perché voleva cambiare le cose è durato poco perché a quanto si è ricostruito Dino Compagni lo storico lo dà per certo venne assassinato mettendo del veleno nei fichi per i quali aveva una certa debolezza e mangiandoli naturalmente passò all'altro mondo e con la sua morte svanisce questa illusione di Dante il quale però non non si ferma nella speranza ed ecco la ragione per cui poi cercherà altre soluzioni nel suo esilio proprio per cercare di vincere l'esilio ecco quindi nei suoi termini fondamentali la conversazione che ho voluto fare proprio per mettere in evidenza naturalmente parlando di Dante e delle sue altissime qualità l'idea che era importante come sempre accade per tutti i poeti legare l'opera ai luoghi perché i poeti sono grandi proprio perché realizzano questa comunione profonda straordinaria con i luoghi che attraversano e Dante che per ragioni di esilio ha attraversato molti luoghi alcuni li ha sentiti come privilegiati e tra questi sicuramente Treviso è la sua marca grazie